Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Con me, Lelia Dani, pronto come sempre a raccontarvi le emozioni di questa spina. Parte da qui la caccia al titolo di campione d'Europa, gara valevole per la prima giornata dei gironi di UEFA Champions League. Si sfidano Napoli e Liverpool. Gli ospiti che arrivano a questa partita favoriti per il passaggio del turno, ma non è mai facile fare il risultato fuori casa e lo hanno già dimostrato in più di un'occasione di avere la qualità e i giocatori necessari per fare strada in questa competizione. Napoli di nuovo in UEFA Champions League, sta diventando una bella abitudine. È vero che gli aggiorni non sono stati troppo fortunati in passato nella fase a gironi. Ovviamente l'augurio di tutti i rivoli del Napoli che possono accedere agli ottavi senza dover soffrire fino all'ultima giornata. Per me non le carte in regola per passare e senza grandi patemi. Con tranquillità e fiducia nei propri mezzi devono partire già oggi alla caccia dei primi tre punti. Ecco l'undici titolare del Napoli per questo match. Meret tra i pali, Dombele insieme a Zilinski in posizione di mezzala e un solo attaccante di ruolo che verrà supportato presumibilmente dagli inserimenti dei centrocampisti. Il tecnico si è spesso affidato al pressing nelle precedenti uscite. La tattica si è rivelata particolarmente efficace, soprattutto contro gli avversari che non sono troppo dotati sul piano del palleggio. I giocatori meno abili tecnicamente possono andare in difficoltà se aggrediti. È il rischio di buttare via la palla, aumento ovviamente. Sì, sì, in effetti potrebbe essere una delle chiavi del match. non ha creato problemi al portiere, palla che è uscita di parecchio. La potenza c'era. È la mira? Alexander Arnold. Diogo Jota. Tiago Alcantara. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. Nessun problema qui per il portiere. Matip. Robertson. Fabinho. Diogo Jota. Vuole il lancio lungo, pericoloso. Grande recupero difensivo, situazione complicata. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Ha spazio per tirare. Colpisce la traversa, non è finita. Sono andati a un passo dal gol del vantaggio. Conclusione respinta dal palo. E il match resta apertissimo sul risultato di parità. Si libera del proprio marcatore. De via la conclusione. Brutto disimpegno, attenzione. Conquistano una buona posizione. Distanza favorevole. Traversa, pallone ancora in gioco. Azione che sfuma qui, poteva essere pericolosa. Occhio qui all'azione del Napoli. Occhio al traversone. Traversone sul secondo palo. Deviazione determinante, era il posto giusto al momento giusto. Buono qui il lavoro difensivo. Con la girata di testa, impatti, è uscita di molto. Tentativo apprezzabile, ma non poteva fare molto di più in quelle condizioni. Fabinho. Mette in movimento a Anderson. Paglia qui e perde il pallone. Lo vede? E il tiro finisce sulla traversa. Napoli significa gioia. Per i tifosi partono per la squadra che spesso si è saltata contro le grandi. Quindi fa un po' anche qualche ingenuità in qualche circostanza contro le meglio piccole che è costata punti pesanti nella lotta per lo scudetto. Squadra umorale, se ce n'è una. Può battere chiunque quando è in giornata, lo sappiamo. Piero occhio qui è. Ha alzato un po' troppo questo pallone che poteva essere pericoloso. C'è il rinvio lungo del portiere. Palla recuperata, attenzione. Occhio al tiro. Che parata questa. No, beh, l'ha tolta letteralmente dalla porta. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Sceglie la soluzione corta. Intervento fondamentale. Ha letto molto bene questa situazione. Gioco fermo. L'arbitro ha visto il fuorigioco. Sbaglia la misura del passaggio. Ballone che termina in out. Tiago. Ecco Salah. Terma un'azione pericolosa qui. Ricorrono al pressi. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. La spazza via in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto. Palla in mezzo. Intercetta palla. Vediamo se la sfruttano. Pioco sciotta. Piracolo del portiere. Occhio al tocco in mezzo. Intervento non perfetto. Vediamo se ne approfittano. Palla che rotola via dopo un buon intervento. risolve problemi. Grande intervento. Zilinski. Errore nella circolazione azzurra. Robertson. Anderson. Mette in moto Tiago. Diogo Iota. Occhio all'avanzata di Salah. Diogo Iota. Gola il portiere e ci arriva. Attenzione. Può nascere qualcosa di importante. Passua la palla. Sventa il pericolo. Ripartono in campo aperto. Può metterla in mezzo. La parata. Ma il pallone è ancora lì. Angalciato al volo. Non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. La legge bene Fabinho. Non concede nulla all'attaccante. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Si riparte. Gara valevole per la prima giornata di Champions. Piozza. Palla profonda per Salah. Salah. Intervento duro ma corretto. Intercetta il pallone. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Tirone spinto. Recuperano un buon pallone. Già interessante. Dice di no. Con una super parata. Tilo della bandierina corto. Occhio all'attacco dell'avversario. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Salah. Palla buona per lui. Intervento provvidenziale. Regge lo 0-0. Portieri sugli scudi fin qui. Vedremo se riusciranno a portare a casa il clean sheet. Sceglie il tocco corpo. Fabinho. Ecco Salah. Lo dicono anche i numeri. Riescono a liberarsi bene alla conclusione. Il problema però è che fin qui è mancata la stoccata vincente. Comunque il gol è nell'aria. Devono insistere. Prima o poi sono certo che raccoglieranno i frutti della loro spinta. Zilinski. Zilinski. Può ammazzare il disurbato. E c'è il gol. Trovano la rete che sblocca il risultato. Bravi a far girare palla in occasione del gol e a trovare il barco giusto per colpire. Come ci mostra il replay. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Si ricomincia con il Napoli avanti del fronteggio. Vittor Osimè. Anderson. Palla per Firmino. Eccolo efficace. Pallone recuperato. Fabinho. Attacca sull'out il Liverpool. Palla verso il primo pano. Prova a spazzare ma male qui. Pericolo scampato. Errore nella circolazione azzurra. Firmino. Firmino. Respinge ma non è finita. Parata facile questa. Da sottolineare invece la parata. Sbaglia tutto il portiere. Attenzione. Keita. Si fa scippare il pallone. Occhio a Salah. Possono trovare il gol del pari. Attenzione. Il portiere salva la porta. Possibilità di controvere. Attenzione. Esultano i tifugi partenopei dopo lo scampato pericolo. Può ripartire il Napoli per provare ad allungare. Salah. Sfugge bene alla marcatura. Firmino. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Ecco l'efficace qui. Dombele. Può metterla al centro. Fermatuteri con questa palla sulla tre quarti. Alexander-Arnold. Salah. Keita. Ecco Firmino. Fabinho. Che palla che è riuscita a intercettare. Recupera la palla il portiere. Può colpire da lì. Smetta bene questo tentativo al portiere. Vuole la scossa. E questa sostituzione per lui può essere utile. Libera male sul traversone. Occhio. Di Lorenzo. Zilinski. Che dubbo nel portiere. Calcio d'angolo battuto. Palla in mezzo. Azione che sfuma. Arthur. Attacca sull'out. Il Liverpool. Difesa protagonista. Qui recuperano palla. Politano. Occhio all'avanzata. Ma su alla palla. Svetta il pericolo. Intercettano bene il pallone. Roberto Firmino. Il Liverpool a caccia del gol del pareggio in questo finale. Firmino. Ha evitato un possibile gol. Attenzione. Può nascere qualcosa di importante. La gioca lunga. Splendido lancio. Attenzione qui. Palla che rimane ancora lì. Pericolo. Tutto fermo. C'è il fuorigioco. Non ha dubbio il guardanile. Non ha fatto il movimento giusto per rientrare in tempo del fuorigioco. Comunque bravo anche la difesa salire. Prova a salire lateralmente il Napoli. Occhio a un pallone importante per chiudere la partita. Attenzione. È una parata che vale come un gol questa. Sono già sotto di uno. Pensa prenderne un altro. Avrebbe stroncato sicuramente le loro ammizioni di rimonta. L'allenatore non vuole cale di tensione. Allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. C'è campo per lui. Tutto fermo. È upside. Il pallone è uscito. Sarà rimessa. Rimessa sprecata. Van Dijk. Arthur. Minuti finali e ultime speranze per il Liverpool. Ottima lettura difensiva. È tutto per oggi. Inizio incoraggiante per loro. Debutano con i tre punti nella fase a girone. Hanno rotto il ghiaccio. Nel migliore dei modi. Sono una delle squadre favorite per il passaggio alla fase successiva della UEFA Champions League. E oggi l'hanno dimostrato.